un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vado a vedere il supporto da reazione della cellular line allora supporta fino a 6.3 come dimensioni vedete ha la molla che si allunga ha i quattro piedini che vanno inserirsi nella bocchetta dell'aria poi dipende quale avete se le avete tonde potrebbe cadere e niente poi andiamo a inserire il nostro telefono come vedete è abbastanza stabile come sistema lo tiene abbastanza bene il nostro s3 dovete valutare ribadisco le vostre bocchette se riescono a sostenere il peso e se sono comode da sfruttare eccolo qua con questo supporto potrete usare il navigatore del vostro telefono tranquillamente avendolo sott'occhio come vedete è facile da vedere adesso alziamo la luminosità adesso è un po' contro luce il telefono ok vedete i materiali sono di buona fattura abbiamo i piedini posteriori gommati vedete abbiamo qua un'altra gommatura qui no qui è plastica e i bordi sono gommati per non rovinare il device eccolo qua mi raccomando un'altra cosa da valutare bene quando volete acquistarlo è il vostro telefono in che posizione volete metterlo ai tasti dove li ha posizionati è universale per tutti i telefoni fino a 6.3 il suo costo circa 10 euro niente qua chiudiamo il video se vi è stato utile lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per i prossimi video un saluto a tutti ragazzi iscrivetevi al mio canale per i prossimi video un saluto a tutti